Ben ritrovati in studio e parliamo di Luci d'autunno e Zellig Film Fest 2010, due eventi per la serata del 24 di settembre, due modi diversi e affascinanti per accompagnare il pubblico bolsanino in un'atmosfera tutta particolare. Sia Luci a Bolzano recita il motto di uno degli eventi sicuramente più affascinanti dell'autunno del capoluogo e perché perdersi l'occasione di una rilassante passeggiata serale tra via Bottai, via Schreiter e via Francescani, tra piccoli momenti musicali e pagliori soffusi che da ogni angolo di queste strade faranno brillare gli occhi di grandi e piccini. Sono passati quasi 150 anni da quel 1861, anno della sua istituzione per volontà dell'allora sindaco Josef Schreiter, ma la festa della luce rimane ancora un appuntamento irrinunciabile per chi ama l'atmosfera ad altri tempi, tra gli assaggi di tante delizie come il prelibato Gröstel di stoccafisso alla Bolsanina, dolci di mele e le misteriose acque del sole. Per tutto questo abbiamo questo dépliando, si può anche vedere, guardare, e soprattutto abbiamo le luci perché nel 1861 il sindaco di Bolzano, Dr. Schreiter, faceva una nuova illuminazione per le strade di Bolzano e così ognuno porta le sue luci questa sera con sé, abbiamo un oceano di luci che soprattutto i bimbi saranno contenti, speriamo. Ognuno con la sua piccola luce a celebrare anche un altro importante evento dedicato all'arte del documentario, lo Zellig Film Fest, una due giorni di proiezioni al Cinema Capital per presentare in anteprima al pubblico gli 11 film di diploma per il 2010 della grande Accademia Bolzanina. La Zellig fa un grande festival per i migliori film dei studenti degli ultimi tre anni e noi abbiamo pensato di fare questo tutto insieme perché anche nel Film Club, via Dr. Schreiter, sono tutte iniziative della cultura che vengono dalla base della cultura, diciamo così. Lucid Autunno e Zellig Film Fest insieme nella serata del 24 di settembre per un percorso culturale, gastronomico e artistico davvero speciale, rispettivamente dalle 18 e dalle 17 e 30 in via Schreiter. Senza scordare che gli 11 film in programma al Cinema Capital vi aspettano anche il 25 di settembre per un'altra giornata dedicata al documentario.